Ed eccoci qua, buonasera, una nuova puntata di In Cammino, da vivere insieme, una data particolare, il 4 maggio 1974, in questa data nasceva la Gesci, ne parliamo questa sera, questo lungo anno di festeggiamenti per questa grande associazione, dopo la sigla. I 50 anni dell'Associazione Guida e Scout Cattolici Italiane, questa sera parliamo di questo perché si presenta a questo 2024 un anno intenso per tornare, anche per chi non conosce il carisma di questa grande associazione, tornare proprio sul tema, i giovani, la formazione, la prossimità, il camminare, si sposa benissimo anche col nostro programma In Cammino. Diamo il benvenuto a Roberta Vincini, ben trovata Roberta. Buonasera. Ben ritrovata, ce l'abbiamo già visti qua un paio d'anni fa. Esatto, sempre in cammino. Sempre in cammino, Presidente del Comitato Nazionale a Gesci e con te c'è Fabrizio Marano, ben trovato. Buonasera. Capo Scout d'Italia a Gesci, quindi abbiamo due cariche importanti che rappresentano quanti scout a Gesci in Italia? Siamo 180 mila, di cui 150 mila ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 21 anni e 30 mila capi e capo, insomma, in tutta Italia. Un esercito della felicità? Esatto. Anche per entrare subito nel tema di questo anno che guarda al passato ma con un grande voglia di essere nel presente e nel futuro. Sì, assolutamente sì. È un cammino lungo, 50 anni, che ha accumulato in questa associazione tanta esperienza, tanta voglia anche di essere partecipi della vita della Chiesa e della vita anche delle comunità locali. È un cammino che ci deve aprire a nuove varchi, attraverso dei varchi di speranza, intravedere nuove strade e questo possiamo farlo con l'aiuto dei ragazzi sicuramente. Fabrizio, 50 anni ma non inizia lì la storia dello scoutismo in Italia? Assolutamente no. Lo scoutismo cattolico italiano inizia con l'Asci, parliamo della fine degli anni 10, inizia anni 20. È uno scoutismo che ha coinvolto migliaia di ragazzi e che poi venne interrotto purtroppo dall'esperienza del fascismo che chiuse le aggregazioni giovanili. È un'altra strada del guidismo avviata nel 1943 sotto i bombardamenti di Roma e occupata dai nazisti e quindi in un periodo anch'esso altrettanto difficile. Eppure due associazioni che hanno camminato e hanno affrontato le sfide poi successive del dopoguerra, capaci sempre di scegliere e a un certo punto di guardarsi negli occhi lo scoutismo e il guidismo e di scegliere e di mettere insieme questi patrimoni senza annientare minimamente l'identità reciproca e dare vita a quello che noi oggi siamo che è la GESCI. 50 anni Roberta Vincini. Che anniversario è? È un modo per fare il punto della situazione, per guardarsi all'interno, per capire ancora meglio la propria identità? E poi comunicarla se vogliamo ancora meglio, no? Certo, sicuramente è un momento per fermarci e capire dove abbiamo le nostre radici, andare a fondo le nostre radici, anche riappropriarci di quelle scelte profettiche che furono fatte, no? In particolare possiamo ricordarne due. Una fu la scelta proprio di educare insieme ragazzi e ragazze, bambine e bambine, se pensiamo alla metà degli anni 70, e di farlo uomini e donne insieme, quindi tutti i livelli di gestione dei gruppi o della struttura prevedono la presenza di un uomo e di una donna. Quindi ogni carica di responsabilità ha sempre un uomo e una donna. E credo che insomma, insieme poi a un presbitero, e quindi è stata una scelta molto forte. L'altro aspetto è di farlo insieme come comunità di capi e di capo. Ecco, tutte insieme le comunità capi d'Italia hanno ricominciato questo percorso, tutte insieme quest'anno, sotto questo slogan di generazione di felicità, ed è un percorso che ci rivedrà ripensare al nostro modo di essere felici oggi e di fare di percorsi di felicità con i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Questo percorso avrà un momento insomma molto importante in cui converremo tutti a Verona, dal 22 al 26 agosto, per chiederci ed ora come vogliamo generare percorsi di felicità. Fabrizio, chi sono i giovani che si avvicinano alla GESCI? Mi piacerebbe più pensare che i giovani che si avvicinano alla GESCI sono giovani che sono stati cercati soprattutto dagli adulti, perché chi si avvicina allo scotismo diciamo già è metà strada rispetto anche ad una famiglia che è alle spalle e quindi benvengano, ma ecco i giovani vanno anche avvicinati. Questo credo che sia il movimento più importante che come adulti, uomini e donne dobbiamo esercitare anche a prescindere dallo scotismo, avvicinare i giovani e sentirci interpellati dalle loro istanze. Volevo aggiungere soltanto che nel novero dei capi, dei ragazzi, dobbiamo tenere presente che ci sono 2000 assistenti ecclesiastici in a GESCI e questo ha senso in quello che ricorderemo anche tra poco, cioè sacerdoti che accompagnano e curano queste comunità particolari nei territori e spesso sono proprio loro gli iniziatori delle esperienze scout nei territori perché guardandosi intorno si rendono conto quale possa essere una proposta che aggrega i giovani in nome non solo della parola ma anche di valori importanti per la propria vita. C'era un sacerdote che era scout, che se vogliamo ha donato proprio la vita per la giustizia, per la legalità, per i giovani della propria terra. Dice domani marzo del 1994 la Camorra uccideva Don Peppe Diana. Perché questo gancio? Perché oltre sia ad essere un scout della GESCI, del gruppo di Aversa se non sbaglio, oggi ci colleghiamo, apriamo la finestra su uno, se vogliamo dei ultimi gruppi aperti in Italia. Siamo nel gruppo di Casal di Principe 1, proprio nella casa Don Diana. E diamo il benvenuto a Gabriella Patricolo e a Raffaele Belluomo. Grazie per essere con noi. Buonasera. E allora, Gabriella Patricolo, capogruppo a GESCI di Casal di Principe 1. Il fatto di essere collegati con voi questa sera in questo luogo particolare, il fatto che quel sogno, se vogliamo, di Don Peppe Diana, di avere un gruppo a Casal di Principe si sia poi, in qualche modo, avverato, che gruppo è il vostro, che realtà vivete quotidianamente? Beh, il nostro gruppo è un gruppo giovanissimo, che è nato ormai da un paio d'anni la comunità capi, l'anno scorso è nato il reparto, i ragazzi hanno scelto insieme ai capi di promettere il 19 marzo del 2023. È stata, come dire, una giornata importante per questo territorio. L'apertura di un gruppo su questo territorio è stata abbastanza facile. C'è chi ha lavorato prima di noi su questa terra per far sì che fosse pronta, fosse anche libera dalla camorra, ma non solo, da un modo di pensare diverso. Oggi c'è un modo di pensare di prossimità dell'altro. I ragazzi vivono un entusiasmo che ha sempre il colore di Don Peppe Diana, seppur noi non ne parliamo tantissimo. Loro hanno scelto di vivere le loro esperienze, le loro riunioni, proprio qui a Casa Don Diana, che è un bene confiscato, che è dato in gestione al Comitato Don Peppe Diana, a Libra e alla Gesci e loro hanno detto ma possiamo vivere le nostre riunioni qui perché forse lo zaino e la camicia di Don Peppe ci fanno stare un po' più a casa. E quindi abbiamo chiesto di poter vivere le nostre riunioni qui e oggi le stiamo vivendo, ma diciamo viviamo tutto il territorio. Raffaele Belluomo, che è anche capo formatore del gruppo Casal di Principe 1, che cosa significa per la comunità, anche per la chiesa locale, avere una presenza costante di un gruppo della Gesci proprio all'interno di quella comunità che vivete? Si realizza un sogno ecco, essere qui nella città di Casal di Principe, anche nella chiesa locale, è una testimonianza molto forte, è una bella testimonianza che il gruppo riesce a dare. Pensiamo che tutte le volte che gli scalto sono qui per eventi di formazione, per le ricorrenze del 19 marzo, ormai le persone, i cittadini di Casale, ci riconoscono subito dal fazzolettone e si vede sul loro volto il sorriso di accogliere questi ragazzi che girano per la città. Quindi è importantissimo essere qui presenti, è importantissimo interagire con tutte le realtà che sono presenti nella città. Devo dire che i ragazzi sono felici, la loro grande felicità è stato quest'ultimo campo infernale che abbiamo fatto dal 28 al 30 dicembre, faticoso perché le nostre attività sono sempre molto intense e hanno sviluppato le loro competenze facendo dei laboratori, hanno fatto strada raggiungendo un rifugio che è sopra la parrocchia di Angli, di Don Luigi e sono ritornati affaticati ma felici con il sorriso sulle labbra e sono andati a casa con il cuore veramente pieno. Grazie. Ora, come ora, stanno... Torniamo tra pochissimo a collegarci con Casal di Principe anche appunto per capire questa nuova quotidianità che si apre, anche l'esempio è che il luogo potrà essere per gli altri ragazzi che ancora magari non sono avvicinati alla GESCI e ne parleremo ancora anche di nostri ospiti in studio, qualche istante di pubblicità e poi torniamo. Ed eccoci tornati in studio con Roberta Vincini e con Fabrizio Marano e con il gruppo Casal di Principe 1. Stiamo celebrando, se vogliamo, i 50 anni della GESCI, la data, l'abbiamo capita, sarà il 4 maggio del 2024, proprio 50 anni dalla stipula. E anche della GESCI così come la conosciamo oggi. Fabrizio Marano, capo scout d'Italia, abbiamo ascoltato questa prima testimonianza da Casal di Principe. In questi anni è cambiato il modo della GESCI di abitare i luoghi. Immagino una presenza a Casal di Principe anche come un presidio della legalità per togliere i ragazzi, se vogliamo, da amicizie particolari, dalla strada e un punto di ripartenza per la cultura per creare felicità per sé e per la propria famiglia e comunità. Lo scoutismo in questi 50 anni nella sua proposta nel nucleo non è cambiato nella metodologia utilizzata, perché fa leva su quelle che sono le cose che piacciono ai bambini, ai ragazzi e ai giovani, quindi nell'espressione di sé, nella capacità di mettersi in gioco, eccetera. Quello che è stato lo sforzo, soprattutto da parte degli adulti, è di coniugare la proposta ai territori e ai tempi. Ecco, questo dobbiamo veramente dire grazie alle migliaia di adulti, di capi, capo e capi, che in questi decenni si sono messi in gioco. Decenni che hanno attraversato l'Italia sotto tanti punti di vista, sotto aspetti anche problematici, ma anche di tante opportunità. Ecco, noi abbiamo 1900 gruppi in Italia. È un numero importante non tanto per la quantità dei gruppi, ma per la dislocazione di queste realtà. E Casal di Principe ci dice che ci sono altre 1900 gruppi che abitano periferie, abitano luoghi particolari, in cui è importante essere presidi educativi, che aiutano i giovani a compiere nella propria vita delle scelte, orientate a dei valori che per loro apriranno delle nuove strade, le strade appunto di un'adultità, da vivere in modo consapevole. La partecipazione dei giovani, il protagonismo dei giovani, assolutamente sono il nucleo di questa proposta, che ha sempre guardato ad una felicità del giovane da ottenere attraverso la felicità che possiamo procurare agli altri, quindi il servizio, l'attenzione al prossimo. Roberta Vincini, tra le vostre finalità, crescere cittadini attivi e questa cosa la vediamo in modo plastica, tridimensionale, da Casal di Principe. Avere cura del creato, sviluppare relazioni autentiche, oltre alle vostre linee guida, questo è anche il Magistero di Papa Francesco. Sì, diciamo che una delle scelte fondanti di Agesci era proprio stata quella di stare nel cammino della Chiesa. Anche oggi il cammino sinodale che stiamo portando avanti insieme a tutte le altre associazioni cattoliche, e anche a tutti i cristiani, ci mette in relazione proprio rispetto a quelle che sono le nostre scelte strategiche fondanti. Il fatto di poter pensare a quali sono le modalità per costruire un mondo migliore, una Chiesa migliore oggi, attraverso relazioni, attraverso questo percorso dell'economia integrata, ma anche attraverso lo scegliere quale linguaggio parlare, come muoverci, credo che sia una delle caratteristiche che ci fa portare avanti meglio quello che siamo, perché lo facciamo insieme ad altri, nessuno si salva da solo. Torniamo a Casal di Principe, a casa dondiana Gabriella Patricolo. Vi concentrate particolarmente sul gruppo degli esploratori e delle guide, un'età per lo scautismo fatta di avventura e ricerca. Che cosa significa per i giovani fare un'attività di avventura e ricerca? Sicuramente è una scoperta per loro, perché è un ambiente del tutto nuovo, seppur semplice nel suo metodo, ma accattivante. È un'esca che da sempre, ormai da tanto tempo, riesce a coinvolgere un'età particolare, che è l'età dell'adolescenza. Noi non l'abbiamo fatto per caso, l'abbiamo scelto proprio di aprire il reparto, perché crediamo che questa età sia l'età in cui si forma un carattere, ci si fa un pensiero critico, e allora in questo territorio era importante iniziare proprio da quell'età. Vivere l'avventura, vivere le competenze, scoprire se stessi, la ricerca di se stessi, inizia proprio nella scoperta anche dell'altro, e quindi della comunità, della piccola comunità, dalla squadriglia fino alla grande comunità che è il reparto. Vivere le piccole esperienze del montare la tenda inizia a far comprendere al ragazzo e la ragazza le proprie capacità, e quindi la fiducia in se stesso, la stima dell'altro, ma anche il riconoscimento da parte di un genitore rispetto a un qualcosa che è diverso dal compito o dalle solite, dai soliti ruoli che hanno gli adolescenti. Quindi questo metodo ovviamente è stato preso dai ragazzi come se fosse acqua, acqua nel deserto, quindi è stata l'esca giusta, ma come da sempre l'esca giusta quella del metodo scout. Raffaele, bell'uomo, formare i giovani, stare vicino ai giovani, significa anche formare una comunità interna, una comunità di domani? Certo, è il seme che noi lasciamo nel loro cuore. Gli scout, tutti coloro, tutti i ragazzi che sono passati per lo scoutismo ricordano sempre con grande gioia questi momenti e quello che lo scoutismo gli ha dato come valori. Il metodo è un metodo che educa col fare piuttosto che col dire. Quindi i ragazzi sono avvicinati molto più facilmente, riusciamo a parlare il loro linguaggio e ad avvicinarci a loro molto più facilmente, ad affascinarli a questa avventura. E loro la vivono con gioia, con pienezza e con grande felicità. A jesci.it è il sito internet per tutte le informazioni. Fabrizio, un appuntamento da non perdere quest'anno, questo grande incontro che avrete quest'estate per festeggiare questi 50 anni. La luce nazionale delle comunità capi, generazione di felicità, è un momento in cui, ecco, gli adulti, sarà bello che gli adulti, alla luce di un cammino che è già iniziato, è già in corso nei vari gruppi d'Italia, ecco, si ritroveranno non per un evento, ma per un incontro e per rinnovare una promessa a se stessi e alla jesci stessa e anche al paese e alla chiesa di proseguire sulla sfida di educare ancora. Allora, grazie per essere stati qui, abbiamo iniziato appunto a raccontare questi 50 anni, magari ci sarà modo di raccontare quest'anno pieno di avvenimenti, grazie a Roberta Vincini, Fabrizio Marano e da Casal di Principe, Gabriella Patricolo, Raffaele Belluomo e anche i ragazzi che sono dietro di voi che, insomma, vi aiutano a creare quella comunità di felicità che, insomma, c'è anche, chiaramente, a Casal di Principe. Buona serata, grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani sera per un'altra puntata di In Cammino. rimanete con noi sempre su TV2000. Buona serata, a presto. Buona serata.